Il Frost Museum è una vera immersione nell'ambiente che ci circonda e nel progresso delle scienze naturali. L'acquario visto da più lati, con i pesciolini super colorati, con i giganti del mare. C'è molta confusione, tanti bambini che osservano, guardate. Per poi passare alle piccole luminose meduse e poi invece capire come esseri giganti della preistoria abbiano iniziato a volare. Ecco qui vediamo in questi esempi come si è incominciata a volare. Un occhio anche alla fauna dei Caraibi. Ma anche una rapida conoscenza dell'evoluzione dei mammut, i giganti dell'era glaciale. Inquietante e interessante è il laboratorio marino per la conservazione della barriera corallina che in Florida è in pericolo perché si sta studiando come sconfiggere la malattia che l'ha colpita. Un laboratorio aperto anche agli studenti dell'Università di Miami.